E buon pomeriggio a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Fortnite Andiamo a completare la missione di parlare con Joy Semplicemente Joy ragazzi si trova esattamente qui a Moli Molesti Molto spesso la trovate qui come potete vedere Eccola qua, bella cagliarda Tac, basterà parlarci e come potete vedere vi troppa tra l'altro anche lo scar Quindi lo prendiamo, non serve per forza che prendete armi Basterà cliccare il tasto per interagire con lei e avrete completato la missione Dunque ragazzi spero che appunto questo video vi sia piaciuto Nel mentre che abbasso sto qua Codice creatore Lucius Vedete qua, semplicemente la trovate qui a Moli Molesti Mi trovo esattamente in questa posizione esatta Potrebbe anche essere che spawni non qui ma magari qui O vicino a Moli Molesti e la scritta Insomma da altre parti in Moli Comunque sempre a Moli Molesti Dunque ragazzi un bacione grandissimo Bene ragazzoni